Allora, riprendiamo il discorso di ieri, noi eravamo arrivati a scrivere queste 5 istruzioni che sono di fatto lo scheletro su cui si bada qualunque c'è sul database, per ricordarlo c'è l'acquisizione di una connessione, la creazione di uno statement legato a quella connessione, l'esecuzione di una query che dal punto di vista del programma java non è altro che una stringa, quindi sta a noi metterci le cose corrette dentro, il compilatore o l'ambiente di sviluppo non ci può far nulla e poi c'è tutta la fase di estrazione del risultato con quel meccanismo un po' strampalato del cursore che deve andare avanti una riga per volte e da ogni riga posso andare a leggere i valori che sono presenti nelle varie colonne di quella riga, visto che i risultati in SQL sono sempre tabulari e poi qua ci faccio qualche cosa, in questo caso l'ho stampato video, posso aggiungerlo ad una collection, posso pubblicarlo su un'interfaccia, visualizzarlo su un'interfaccia utente e così via e poi non mi devo dimenticare della connection .close. Adesso oggi affrontiamo due problemi, uno la costruzione della stringa che può essere un'operazione pericolosa e il secondo è dove mettere queste varie parti di istruzioni, perché è ovvio che non è che posso all'interno del mio controller in JavaFX avere questa stringa qua con la password messa lì in bella vista, copiata in 200 classi diverse, per cui ogni classe che ha bisogno di usare un database deve sapere qual è la stringa di connessione e quindi cercheremo di riorganizzare il codice in modo da mettere ogni cosa al posto giusto e non tutto chiaramente nella stessa classe. Partiamo dall'inizio, avevamo detto io qua creo uno statement e nello statement devo semplicemente passargli una stringa SQL. Nel caso semplice la SQL contiene una selector, in realtà è anche possibile che la SQL che vogliamo eseguire contenga un'altra istruzione SQL che non sia una selector tipo insert, update oppure delete che sono le altre istruzioni per la manipolazione dei dati. Allora è uguale, è la stessa cosa, l'unica differenza è che ovviamente se fate un inserimento, un aggiornamento, una cancellazione non verrà ritornato un result set perché non c'è nessun risultato da ritornare e quindi il metodo è un po' diverso, non si chiama più execute ma si chiama execute update e si chiama sempre update anche se devo fare un insert, non solamente un update e non restituisce un result set, vensì un numero intero. Questo numero intero mi dice quante righe sono state effettivamente modificate nel database, quindi se faccio una insert mi aspetto che il risultato sia uno, un insert di una record. No, ma questo è un dettaglio. In ogni caso viene passato il parametro stringa SQL. Poi c'è un altro metodo execute che non è né execute query per la select, né execute update per insert, update, delete, ma per un qualunque istruzione SQL generico. Che ne so, create table, create view, cose di questo genere. Noi non useremo praticamente mai perché tutta la parte di definizione delle tabelle la facciamo a mano interattivamente con ID SQL o con altre interfacce e poi in realtà dal programma dovremmo semplicemente fare poi le interrogazioni, gli aggiornamenti, inserimenti di dati. Quindi la query che abbiamo fatto era una query fissa, in cui selezioniamo una parola dove inizia in un certo modo. Immaginiamo invece di voler fare un'interrogazione che dipenda da un dato che proviene dall'utente. Che ne so, l'utente si chiede nel database esiste la parola gatto? Allora, nella mia query dovrò fare una cosa del tipo where nome uguale gatto. Poi questa può esserci o non esserci e quindi alla fine mi stampa che c'è oppure non mi stampa nulla. In questo caso immagino che mi stampi gatto. Se tutto funziona mi è stampato gatto. Se invece trovassi a cercare un gatto con 3t, mi aspetto che non mi stampi nulla, beh in realtà il programma per farlo bene dovrei scrivere che non ho stampato nulla eccetera, quindi dovrei accorgermi che non l'ho trovato e quindi non visualizzare nulla. Infatti la console non si è neppure aperta. Va bene. Il punto è che questa stringa qui può, non la devo necessariamente codificare dentro il codice ovviamente, ma me la può passare l'utente. Immaginate che questa arrivi ad una casella di testo dell'interfaccia grafica. Quindi a un certo punto questa stringa da ricercare, la parola da ricercare può essere gatto, ma questa parola, diciamo così, immaginiamo che provenga da una casella di testo. txt parola.gettext, che è ciò che faremo in l'interfaccia grafica per prendere una parola inserita in una casella di testo. Quindi questa arriva dall'utente. Quindi io devo costruire una query che non è sempre la stessa, ma a un certo punto contiene una parola, una variabile che mi viene passata, che arriva dall'esterno. Allora, cosa posso fare qui? Il metodo più brutale potrebbe essere questo. Quindi costruire la stringa ovviamente concatenandoci dentro la variabile nel posto giusto. Quindi occhio ad una nausea data dalle virgolette. Qui noi abbiamo queste virgolette, vabbè, fanno parte della stringa SQL. WHERE nome uguale apice, perché è l'apice SQL che deve contenere il testo. Chiuse virgolette della stringa, poi qui sono fuori dalla stringa, quindi questo è java, più l'operatorio di concatenazione di stringhe, la nome della variabile, più, riaperte le virgolette, chiusi gli apici delle SQL, quindi questo è chiudo e questo, e poi richiusa la stringa Java. Non è solo fare attenzione se siamo dentro o fuori la stringa Java e se siamo dentro o fuori la stringa SQL. Vabbè, ma parte questo, che può essere antipatico, se uno non vuole fare questo giochino, può usare uno string.format, ad esempio, in cui ci mette apice, percentuale S apice, e poi la stringa la metà parte, quindi viene inserita in modo sintaticamente un pochino più elegante. Noi, però, non vogliamo fare questo. Ci fa vomitare. Perché? Eh, lo vediamo subito. Questo sarebbe il metodo ovvio, banale, quello che vi hanno insegnato a base di dati. costruire una stringa, ci giuntano insieme i campi di testo. Qui, per fortuna, c'è un'alternativa migliore, che prende il nome di prepare statement. Quindi, qui, è un esempio uguale a quello che abbiamo fatto qua, no? Immaginiamo di prendere un getText da qualche campo di interfaccia utente, e voler fare una query, ad esempio, che va a verificare se nella tabella utenti ne esiste uno con l'username specificato, quindi esattamente identico all'esempio che abbiamo appena fatto. Qual è il problema? Immaginate che ci sia un utente particolarmente malevolo che nella vostra interfaccia, nel vostro programma, quando gli chiede qual è il tuo nome utente, non scriva Pippo, non scriva la sua login, ma scriva quella cosa lì, apice, punto e virgola, delete, stelisco from users, punto e virgola, meno meno. Questo lo posso scrivere in un campo di testo? Sì. È una stringa. Ma cosa capita? Quindi l'utente ha scritto sta cosa qua, si chiama in un modo un po' strano, però. Il problema è che quando io metto questo user qua dentro, quello che sto costruendo è una stringa, select a stelisco from user, where username uguale apice, e poi sta roba qui. Qui, nel riquadro, ho fatto vedere il risultato finale. Select a stelisco from user, where username uguale apice, è il pezzo di stringa che avevamo già. Poi ci concateno dentro questo in blu, quindi di nuovo apice, punto e virgola, eccetera, eccetera. Finisce con trattino, trattino, e poi c'è ancora un'apice che proveniva da qua. Allora, andiamo a leggere questa qui tutta insieme. Seleziona tutto dalla tabella utenti, dove lo username è vuoto, e poi cancella tutto dalla tabella utenti. Cioè, il fatto di eseguire una query che pensavamo innocente, vediamo se quest'utente esiste, in realtà mi fa cancellare tutta la tabella. Perché? Perché l'utente malizioso ha inserito una stringa che dopo la concatenazione viene interpretata, ha inserito il carattere della stringa che vengono interpretati come parte della sintassi SQL. Questo si chiama SQL Injection. Viene iniettato del codice SQL all'interno del programma usando un campo di testo che il nostro programma, di cui il nostro programma si fida, lo prende e lo usa per costruire delle stringhe. Immaginando che lì ci sia una semplice parolina, una semplice stringa innocua, invece questa stringa contiene dei caratteri speciali. Allora, come si fa a evitare questo? Vabbè, c'è il metodo faticoso e inutile che è quello di rilevare, cancellare, usare un escape, quindi un backslash, per tutti i caratteri speciali. Quindi, ad esempio, io potrei analizzare questa stringa e dire, ah, ma se c'è un apice lo cancello. Non l'accetto. Prima di concatenare la stringa SQL, no? Quando valido il campo. Se c'è uno spazio non l'accetto, se c'è un punto di virgola non l'accetto. Eh, però, va bene. Però devo essere sicuro di controllare tutti i caratteri che l'utente, perché dopo che l'utente capisce che l'apice non funziona, allora magari lui può inventare un a capo, provare ad inserire un a capo, provare ad inserire un carattere speciale, un emoticon, un doppio apice. Non so. Quindi dovrei continuamente inseguire la fantasia di chi cerca di bucarmi il mio sistema andando a mettere i controlli preventivi di tutti i modi strani in cui l'utente può cercare di entrare. Non sarò mai sicuro al 100%. E quindi, di fatto, devo entrare nella mentalità che i dati che provengono dall'utente non sono mai, mai affidabili. Quindi non devo mai trovarmi la condizione di costruire, in questo caso, un'istruzione SQL che contenga dei dati dell'utente. Cosa sta succedendo qua? Sta succedendo che io ho un programma innocente che ha i privilegi di accesso al database, perché il mio programma si collega al database con una certa credenziale, username e password. Quindi, però, un utente dall'esterno sfruttando un bacco di sicurezza del mio programma riesce a fare eseguire delle query su un database a cui lui non ha accesso direttamente. Cioè, questo utente non potrebbe direttamente lui farla qui al database perché non sa qual è la password di accesso al database. Anzi, poi, di solito i database, dal punto di vista proprio della rete, sono isolati, non sono accessibili dall'esterno. E quindi lui non potrebbe fare questa operazione. Lo può fare grazie al fatto che c'è un software che ha dei diritti di accesso superiori a lui e scritto male. Ha dei problemi. Allora, per fortuna, Java, poi in giro su questa cosa qua ci sono tantissimi vignette, tipo questo tizio qua che ha cercato di fregare l'autovelox, dicendo così, quando mi fotografano la targa lo riconosce quando inserisci nel database. Oppure questa altra vignetta dove c'è la mamma che chiama il bambino apice drop table e quelli della scuola di telefono, tipo, ma tutte le volte che inseriamo suo figlio nella scuola cresce tutto, cose del genere. Ma vabbè. Qual è la soluzione che ci dà JDBC? La soluzione che ci dà JDBC è quella di separare la sintassi dell'istruzione rispetto ai dati che voglio inserire nell'istruzione stessa. Cioè, ci permette di non dover mai fare l'interpolazione sotto forma di stringa. Quindi separiamo un template, un modello, uno scheletro dell'interrogazione che vogliamo scrivere e indichiamo in questa query dove sono le posizioni parametriche. Cioè, dove la query ad un certo punto avrà bisogno di un parametro, di un valore che sarà determinato dinamicamente. E questo lo indichiamo semplicemente con un punto interrogativo. E dopo, separatamente, affidiamo, assegniamo dei valori a questi parametri. Ciò che succede è che il parametro e la stringa e la query non vengono mai messi insieme. Nel senso che JDBC ci pensa a lui a mandare al database la stringa e poi separatamente i parametri. Non fa mai l'operazione di collegarle insieme. Quindi, se questo parametro in realtà è una stringa maliziola che contiene dei caratteri speciali, non esiste mai un momento in cui il database potrebbe avere il dubbio se quei caratteri sono da interpretare come sintassi delle sequele oppure se sono dei dati strani con gli apici dentro ma va bene è sempre un dato. Tra l'altro questo risolve anche per dire il problema molto molto banale cioè chi ha il cognome o il nome con l'accento che magari non si viene voi non so quando qualcuno di voi avrà una lettera accentata nel nome o nel cognome sapete che nella Secretaria dei Studenti perché quelle lettera accentate sono una cosa troppo moderna e quindi vi viene salvato sotto forma di apostrofo quindi immaginate tutte le volte che inserite o vi viene visualizzato il vostro nome in un database quell'apice lì che fa parte del nome rischia di andare in conflitto con gli apici che fanno parte della sintassi SQL e non si capisce mai allora tutto questo è gestito automaticamente dalla DDB se io uso non la classe Statement ma si la classe che si chiama Prepare Statement e funziona in modo molto semplice definisco la stringa la query creando il modello scrivendo la parte fissa della query che non cambierà mai e dove devo mettere delle variabili indico semplicemente un punto interrogativo occhio senza apici non devo metterli apici perché se scrivesse apice punto interrogativo apice metterei una stringa che è composta da un singolo punto interrogativo mi dice il punto interrogativo puro semplice poi diciamo così l'apice viene aggiunto verrà aggiunto automaticamente dal driver jdbc se si tratta di una stringa invece non verrà aggiunto se si tratta di un intero o di un numero perché non serve ma questi sono problemi che non sono più miei io dico solo che a questo punto qui c'è un parametro e qui ci sarà un altro parametro e quindi creo un oggetto non statement ma prepared statement e quindi la chiamata da fare non è connection punto create statement bensì prepare statement a cui devo già passare in fase di preparazione dello statement o di creazione dello statement preparato già il template già la stringa quindi è differente del nostro codice il nostro codice creava uno statement senza dirgli qual era la SQL e la SQL lo passavo solamente in fase di decuzione qui invece quando creo il prepared statement passo già la stringa la query incompleta perché ha ancora dei punti interrogativi e poi in fase di esecuzione qui è un execute potrebbe essere un execute query in fase di esecuzione non gli dico più nulla qui sotto non c'è più la stringa SQL nel frattempo che cosa faccio nel frattempo ho dei metodi che si chiamano sul prepare statement che si chiamano set qualche cosa che permettono di settare di impostare il valore del primo parametro a una certa variabile il valore del secondo parametro a una certa altra variabile quindi questi metodi di set hanno due parametri la funzione la prima è un numerino che identifica il punto interrogativo che sto cercando di sostituire quindi se ho due punti interrogativi saranno uno e due quindi dovrò avere un set di uno e un set di due a cui specifico e questo è il secondo parametro dei metodi di set il valore che voglio attribuire che può essere un interno una stringa un oggetto data quello che deve essere insomma a seconda del dato che devo inserire in quel punto allora la combinazione di un template e dei parametri impostati a parte mi fa sì che anche se il parametro contenesse dei caratteri pericolosi questi non vengono mai mescolati con la query vera e propria e quindi il problema è del tutto risolto è scomparso questo è il motivo per cui noi l'abbiamo visto come primo esempio ma l'oggetto statement non useremo mai quando vogliamo fare cose di questo genere useremo sempre un prepare statement quindi la mia stringa SQL non conterrà mai una concatenazione di cose ma dirò che l'interrogazione è parametrica e contiene un parametro una variabile lo indico con il punto interrogativo a questo punto devo preparare lo statement prepared statement statement uguale scusate connection punto con punto prepare statement a cui devo passare la stringa SQL di sopra e a questo punto posso eseguire la query senza più passargli nessuna SQL perché tanto lo sequello l'ho già dato prima quindi la differenza è semplicemente usare prepare statement anziché statement che viene creato con prepare anziché con create attenzione che ne manca ancora un pezzo perché se io provassi ad eseguire adesso il programma mi direbbe ovviamente è una SQL exception leggiamo la prima riga no value specified for parameter 1 certamente lui mi dice è caro mi hai detto che la tua query ha un parametro però stai cercando di eseguirla senza avermi detto qual è il valore effettivo di quel parametro quindi passaggio in più è ovviamente allo statement settare dunque questo è un parametro di tipo stringa quindi set string parametro 1 valore parola set string perché l'oggetto parola è un oggetto di tipo stringa e nella sintassi sequello in quel punto mi serve una stringa se fosse un numero intero scriverei set int e quindi in questo caso ovviamente il programma si comporta di nuovo come prima ma abbiamo evitato ogni possibile problema se anziché gatto scrivessi apice punto e virgola qualche cosa non capita nulla semplicemente mi dirà in questo caso non stampa niente perché non trova quella parola se io avessi scritto una cosa di questo genere col programma precedente beh in questo caso ho scritto punto e virgola gatto mi avrebbe dato un errore di sintassi un syntax error perché avrebbe cercato di eseguire fra un parola where nome uguale apice aperto o apice chiuso punto e virgola gatto e gatto in sql non vuol dire niente invece in questo caso non si avrebbe dato un'eccezione dove non me l'aspettavo perché appunto c'è sempre questo rischio che il dato dell'utente venga interpretato come parte della query soprattutto i caratteri speciali allora questo noi lo evitiamo se religiosamente ci atteniamo a usare sempre prepare statement e mai create statement poi se per caso addirittura anche se non ci fosse nessun parametro nella query se vuoi dire dammi tutte le parole va bene uso lo stesso prepare statement semplicemente se non ci sono parametri non dovrò fare questo passaggio di set dei parametri chi se frega però ormai ho abituato metto una bella croce sopra alla classe statement e non la userò mai ok perché non si sa mai poi magari inizi con una query senza parametri poi ti viene in mente di modificarla aggiungi un parametro e ti ritrovi di nuovo nel casino quindi non cominciamo neppure quindi questa è la prima cosa importante importante praticamente tra l'altro è una comodità perché ci evita di fare chiusi gli apici più riaperti gli apici eccetera incasinarci con la sintassi in più questi metodi set string set int eccetera poiché sono metodi java verificano il tipo di dato quindi mi permette anche di evitare degli errori di programmazione di aver messo dentro il dato sbagliato eccetera oltre ovviamente avere questo grosso beneficio dal punto di vista della sicurezza che se vogliamo è il motivo vero quindi sempre ok altri sono dettagli dopodiché questo è il primo punto che volevo toccare oggi il secondo punto che volevo toccare oggi è dove metto queste cose allora qui noi abbiamo fatto un programmino di 10 righe in tutto e va bene immaginiamo però di voler inserire come faremo nell'ora successiva queste istruzioni all'interno di un programma più completo proviamo però ad immaginarci che non so il liberto dei voti la cosa bella di quel liberto dei voti no brutta di quel liberto dei voti era che quando poi io chiudo il programma tutto viene dimenticato quindi i voti che avevo faticosamente inserito a mano verrebbero dimenticati perché non sono salvati da nessuna parte sono salvati dentro una lista allora praticamente ogni programma che si rispetti soprattutto in ambito gestionale lavora con dei dati che devono rimanere devono persistere quindi praticamente ogni programma in qualche modo dovrà anche se è complesso dovrà a un certo punto avere una parte di esso che si occupa della persistenza dei dati persistenza dei dati significa salvare i dati di lavoro in un database e recuperare invece interrogare il database per riprendere i dati delle sessioni precedenti di lavoro ok allora come è meglio organizzare le varie chiamate perché di nuovo non vogliamo mescolare quelle che sono informazioni tecniche di connessione con quelle che sono l'algoritmo di elaborazione dei dati con quella che è la sintassi della SQL cioè qui ci sono cose diverse no? cioè se fossi in un grosso progetto questa cosa qua questa informazione qua c'era il sistemista questa silinga qua la costruisce l'esperto di database e questa elaborazione qua invece la costruisce chi si occupa degli algoritmi dell'applicazione con competenze diverse sarebbe bello vederle in posti diversi io che creo l'applicazione potrei anche non dover conoscere la SQL o non dover conoscere come è strutturato un database immaginiamo di lavorare in due tu conosci bene i database io conosco bene JavaFX e lavoriamo insieme e facciamo un programma però se io quando devo popolare una tendina che mi faccia vedere i nomi dei corsi ovviamente questi dati sono presenti nel database e chiedo te per favore scrivimi una classe un metodo un qualcosa che mi dia l'elenco di questi campi quindi ogni volta che la parte algoritmica dell'applicazione deve colloquiare con la parte di persistenza con i dati dobbiamo in qualche modo definire un'interfaccia che sia chiara comoda da usare allora per questo usiamo un pattern che si chiama DAO come sempre un pattern è il suggerimento di come affrontare la soluzione di un problema che è un problema che già qualcun altro ha sviscerato quindi noi andiamo a trovare la best practice che ci presentano gli altri allora vabbè qui racconta le pippe su perché è bello avere dei pattern ma vediamo com'è fatto allora noi possiamo distinguere in una nostra applicazione varie tipologie tra le varie classi varie tipologie di classi a cui vogliamo attribuire delle responsabilità dei compiti specifici ci diamo delle regole così come avevamo detto il modello sta separato dal controller perché è bello perché è utile perché ci permette di debagare il modello a parte eccetera ci permette di far evolvere il controller un'interfaccia separatamente tanti ben ragioni la stessa cosa la facciamo con il database allora quando devo sviluppare un programma un'applicazione che coinvolge il database la parte dell'applicazione che usa i dati che ha bisogno di accedere al database diciamo la chiamo client le classi che vogliono usare il database la cosa importante è che nelle classi client quindi nel nostro caso nel model perché chi è che avrà bisogno di accedere al database il model perché il model che è responsabile dei dati di sicuro non chiamo il database dal controller o dal name del mio programma il controller ha già i suoi bei problemi a gestire l'interazione con l'utente ci mancherebbe ancora che dovesse andare a leggere i dati dal database i dati li organizza il model quindi la classe model del nostro pattern mvc diventa il client che di tanto in tanto ha bisogno di non di accedere al database non ne frega niente di avere delle informazioni che sono presenti nel database la cosa importante è che la classe client è ignorante rispetto ai dettagli del database cioè non sa niente io devo scrivere il model senza neanche sapere come è strutturato il database la classe JDBC non deve comparire nel model quindi nel model non voglio vedere connection non voglio vedere statement non voglio vedere result set eccetera eccetera non è quello il posto giusto tutte le volte che il model ha bisogno di accedere al database lo chiede a un'altra classe il cui unico scopo nella vita sia proprio quello di permettere l'accesso al database data access object DAO quindi un oggetto che è lì perché per fornire accesso ai dati quindi tutto il codice JDBC quindi tutto il connection eccetera eccetera statement eccetera lo incapsuliamo tutto dentro delle classi di tipo DAO poi potremmo avere una classe unica che contiene tutti i metodi oppure tre o quattro classi diverse se in realtà il database è grosso e quindi ci sarà una classe che si occupa che ne so dei voti una dei corsi una dei studenti eccetera eccetera non importa come lo organizziamo l'importante è capire che la qualità di quella data di quella classe la natura di quella classe è di fornire accesso ai dati e quindi offre di incapsula tutto il codice di accesso al database quindi tutto il codice è qua dentro e sono le uniche classi quelle DAO diciamo che dovranno mai contattare il database e lo fanno senza sapere il motivo per cui gli è stato richiesto quindi io potrò avere un DAO con una classe dimmi se esiste questa parola la classe farà la query e mi dice sì o no ritornerà un booleano la parola c'è la parola non c'è dopodiché alla classe DAO che esegue quella query non importa minimamente perché a che cosa serve questo alla mia applicazione al model quindi abbiamo due classi che si aiutano a vicenda una ciascuna delle quali non sa nulla o quasi nulla dell'altra bene ottimo abbiamo disaccoppiato bene i ruoli il model fa i fatti suoi sviluppa l'applicazione sviluppa la logica dell'applicazione e quando ha bisogno chiama il DAO per avere dei dati che in realtà solo il database possiede il DAO offre una serie di metodi la cui implementazione però deve prescindere rispetto alla conoscenza dello scopo dell'applicazione cioè in teoria questo DAO lo potrei far viaggiare insieme al database se quel database lì viene usato in 100 programmi diversi io ho il database e la classe che permette di accedere fornire i metodi di accesso a questo database poi lo metto nel programma 1 nel programma 2 nel programma 3 lo stesso DAO la stessa classe DAO questi programmi faranno cose diverse ma la classe DAO non ha bisogno di saperlo deve fornire tutti i metodi che servono per poter accedere a quel database non ha bisogno di saperlo poi ricordiamocelo perché poi quando progetteremo i metodi non vorremmo magari già che questo metodo restituisse qualche cosa esattamente formattato come mi serve per metterlo in un'interfaccia utente perché altrimenti sto dando al DAO una conoscenza di qualcosa che serve all'applicazione ma avremo modo nel fare esercizi di ribadire come si mette in pratica questo principio e quindi ci sono poi tutte le classi del mondo JDBC driver manager vediamo più avanti data source dopo pasqua result set prepare stamp eccetera eccetera che è tutto il mondo JDBC che abbiamo detto va bene ovviamente ci serve ma lo usano solamente le classi DAO e come comunicano tra di loro il client e la classe DAO devono scambiarsi delle informazioni che conviene che siano sotto forma di oggetti in questo caso nel dizionario avevo solo una parola ma non è vero che avevo solo una parola perché in realtà avevo un intero e una stringa quindi se io volessi rendere la ricerca del fatto che una parola esiste oppure non nel database lavorarsi incapsulare all'interno di un'altra classe che cosa restituisce quest'altra classe cosa è giusto che restituisca un oggetto che contiene un'intera una stringa se voglio implementare sul database il libretto dei voti su cui abbiamo parlato la settimana scorsa avrò una classe voto che contiene tutte le informazioni relative a un voto quindi il client e il DAO si parlano usando degli oggetti ti do un oggetto voto salverò sul database ti do un oggetto voto e dimmi se esiste già e ovviamente poi il metodo del DAO va a prendere i campi dell'oggetto e li mette dentro la stringa SQL usando il prepare statement ovviamente però il client il model e il DAO non si parlano mai passandosi dati spicci è sempre meglio passarsi degli oggetti questi oggetti nella terminologia del pattern DAO vengono chiamati DTO a volte TO transfer object o data transfer object cioè oggetti per il trasferimento di dati sono oggetti che tipicamente non hanno metodi ma hanno solamente delle proprietà quello che si chiama a volte plain old java object POJO è un oggetto che è semplicemente delle proprietà private e get a receptor vabbè equal access code compare tool se ci serve insomma tutti i metodi di servizio per rendere quello un oggetto diciamo così che si comporta bene nell'ecosistema java e basta quell'oggetto lì è un contenitore di dati non ha della logica sua poi magari in alcuni casi ha un po' di logica nel senso che valida i dati e la validazione dell'input un costruttore che fa pochino attenzione va bene ma un oggetto semplice che facilmente è riusabile non troppo legato né al database non troppo legato né all'applicazione e allora questo oggetto POJO è quel più ignorante di tutti cioè lui sa come ha fatto un voto ma non sa cosa ci fa il programma con i voti non sa come è strutturato il database che contiene i voti eccetera eccetera è il più ignorante di tutti per quello che può essere usato da tutti perché a questo punto il modello userà direttamente questi oggetti per costruirsi le strutture dati interne il DAO userà questi oggetti per costruire le query ma qui quello diventa l'anello di congiunzione tra due mondi molto diversi quello di JDBC è quello degli algoritmi delle strutture dati che è il model quindi noi abbiamo classi con ruoli diversi il model che fa il model il DAO che fa le query e gli oggetti semplici che fanno da contenitori di dati e viaggiano avanti e indietro tra il DAO e il model quindi di fatto se questo è il nostro model usa un DAO che offre dei metodi questo DAO offrirà dei metodi per creare nuovi dati per leggerli per aggiornarli eccetera l'interfaccia tra client e DAO è sempre sotto forma di oggetti e questi oggetti sono questi transfer object che di fatto sono le classiche che fanno parte del modello in pratica e quindi queste vengono passate come parametro ai metodi del DAO oppure vengono restituite come risultato dai metodi del DAO e poi vengono usate e salvate nelle varie liste nelle varie tabelle di hash eccetera che sono gestite dal client poi tutta la parte la colonna di destra quindi il driver manager il result set connection eccetera è tutta roba che è gestita invece dal DAO quindi vedete che la colonna di destra non è visibile al client che sta a sinistra ecco se lo diamo quindi come conseguenza di questo schema applicazione DAO che usa gli oggetti di trasferimento e la parte di accesso ai dati come progettiamo queste classi DAO allora la prima cosa è il primo criterio è che normalmente il DAO non ha stato cioè è una classe che contiene solo metodi non contiene proprietà se Java non fosse un linguaggio oggetti diremmo che è una raccolta di funzioni perché funzioni in Java non esistono solamente i metodi una classe che raccoglie metodi non ha stato non ha variabili distanza non ha proprietà perché? è perché per essere più generico possibile io devo poter fare qualunque chiamare qualunque metodo in qualunque ordine in qualunque momento perché il DAO non può sapere qual è l'ordine giusto con cui l'applicazione chiamerà i metodi perché non sa cosa fa l'applicazione quindi non può fare nessuna ipotesi sul fatto che lui chiamerà prima questo metodo dell'altro e quindi salvarsi dei dati localmente il DAO perché tanto poi gli servono perché sicuramente questo secondo metodo verrà chiamato prima del primo questo è un lavoro che può fare il model sicuramente perché ha in mano la logica del programma ma il DAO no quindi per essere sicuri che se io chiamo un metodo il risultato sia sempre lo stesso indipendentemente dai metodi che ho chiamato prima del DAO perché alla fine i metodi mi dicono i dati mi danno accesso ai dati quindi i dati devono essere gli stessi indipendentemente da come li manipolo evitiamo di dare uno stato al DAO quindi non definiamo nessuna variabile di distanza di solito la classe DAO cerchiamo di renderla tipizzata cioè se io nel caso del libretto potrei avere una classe che si chiama libretto DAO o voto DAO che contiene tutti i metodi per gestire gli oggetti tipo voto o la tabella voto sul database poi magari se dovessi gestire anche gli studenti avrei un'altra classe che chiamerò magari studente DAO che contiene i metodi per modificare leggere scrivere la parte di database che contiene le informazioni sugli studenti li separo per non avere una classe con 400 metodi e anche per far sì che in ogni progetto futuro io possa andare solamente a usare le classi DAO che mi servono e non portarmi dietro tutto anche ciò che non mi serve e così ogni classe DAO interagisce con un numero piccolo di tabelle del database numero piccolo può essere uno ecco a volte due di base una classe DAO deve offrire dei metodi si chiamano CRUD dipende come lo volete pronunciare che sono un metodo per creare create leggere aggiornare o cancellare degli elementi del database queste sono le quattro operazioni di base ti do un oggetto nuovo creamelo sul database ti do l'ID o un campo di ricerca di un'informazione univoco di un oggetto leggimi l'oggetto del database quindi sostituisci una copia dell'oggetto così come l'hai letto aggiorna ti do un oggetto sostituisci le informazioni che avevi su questo oggetto con quelle nuove e basta nel senso che di lì non lo voglio neanche sentire di menzionare teoricamente c'è però io devo ancora trovare oggi un motivo per cancellare una riga di un database in una qualunque applicazione non serve mai cancellare scancellare non scancellare cancellare serve solo a potersene pentire un minuto dopo oh cacchio l'ho cancellato mi serviva ok quindi abituiamoci a non implementare i metodi di cancellazione eh ma se ho poi un studente non c'è più ho un esame l'ho tolto dal carico quindi dovrei cancellarlo no no caro non è che devi cancellarlo ci aggiungi un campo in più un flag che dice valido non valido e quando farai le query farai il filtro solamente sugli esami valdi ma comunque lui è rimasto non l'hai cancellato perché se dopo cambi idea dici no ma guarda ma in realtà sto voto lì non mi piaceva tanto ma andiamo a riprenderlo perché piuttosto di fare un esame in più allora ce l'hai già lì semplicemente non devi andare a recuperare dal chissà dove che non esiste più perché è stato cancellato ma oppure se qualcuno ti chiedesse ma quanti esami sono stati cancellati nell'anno scorso eh se tu li hai cancellati davvero non sai quanti sono stati cancellati se tu li hai marcati come non più validi lo sai perché vai basta semplicemente andare a contare quindi quello che l'utente percepisce come una cancellazione un dato che prima c'era e poi non c'è più nel database non è una vera cancellazione ok lo sposto lo identifico lo marco in qualche modo che è un po' quello tra l'altro che se siete sui social quando voi dite ah io ho cancellato la foto ho cancellato il messaggio ho cancellato il profilo non sperate che qualcuno dall'altra parte cancelli i dati veramente al database vi dicono ok non è più accessibile ma io il dato ce l'avevo me l'hai dato e me lo tengo ok lo spazio su disco costa talmente poco che non c'è veramente nessun motivo per cancellare un'informazione ok ma oltre ovviamente ai metodi un metodo read dice io ti dico il nome del corso dimmi qual è il voto dimmi i dati di quell'esame però devo già avere il nome del corso devo già avere un identificatore preciso dell'oggetto che voglio leggere a volte non ho quell'identificatore preciso e quindi dico ma voglio vedere tutti gli esami che ho dato nel 2017 allora definisco un criterio di ricerca e sarà il DAO che costruirà una query il cui risultato sarà a questo punto non un elemento ma un insieme di elementi possibili una lista un set di elementi che soddisfano quel criterio di ricerca e quindi immaginiamoci un po' una classe user DAO una classe DAO che gestisca degli utenti allora immaginiamo una tabella dove c'è un utente che avrà un ID avrà una classe user una classe user che descrive le caratteristiche dell'utente questa classe user cosa avrà? avrà una matricola un ID avrà un cognome avrà un nome avrà un email avrà dei campi di questo genere allora io potrei avere che sono il metodo più semplice fammi l'elenco di tutti gli utenti public list e mi restituisce senza nessun parametro mi restituisce una lista di oggetti user cosa fa questo metodo? farà un select asterisco sulla tabella utenti per ogni elemento mi costruisce un oggetto di tipo user mi le mette in una lista e mi restituisce la lista chi usa questo metodo non ha bisogno di sapere cos'è select o come è fatta la tabella o come si chiamano le colonne della tabella semplicemente riceve una lista di oggetti oppure di un oggetto ti do mi serve l'utente numero 200 la cui matricola è 200 allora ho un metodo qui l'ho chiamato find ti do la matricola e mi ritorni l'oggetto ma a me serve solo il nome non posso istituire una stringa che contenga solo il nome ma no perché ti costa uguale restituire solamente il nome e restituire l'intero oggetto con tutte le informazioni poi ci penserà il client a estrarre solamente le informazioni che gli servono ma te una volta che hai fatto la query prendere solo la prima colonna o prendere tutte e quattro non ti costa niente hai un metodo che ha un'utilità più generale e indipendente dall'applicazione un altro modo di fare questo è un metodo di read di fatto ti passo l'informazione su quale elemento voglio e tu mi restituisci l'elemento l'alternativa è ti passo il numero e ti passo già un oggetto della classe user tu riempimi i campi di questo oggetto l'oggetto ce l'ho già ti do una scatola vuota un oggetto creato senza inizializzazione e tu riempimi i campi dentro l'oggetto che ti do io perché magari quell'oggetto lì ce l'ho già fa già parte di una collection fa già parte di una struttura dati che ho creato e voglio che tu mi riempia questo dipende dai casi di fatto la vera differenza è che se io faccio uso la prima forma per trovare un oggetto la new dell'oggetto la fa il metodo find quindi la fa il DAO il DAO deve creare gli oggetti se io invece uso questa seconda forma l'oggetto lo crea il model allora se U è una classe cambia poco se U user è una classe cambia poco ma se U user fosse un'interfaccia che può essere implementata attraverso classi diverse allora devo capire chi è che ha la informazione per creare la classe giusta dipende dall'applicazione non c'è una regola generale però noi abbiamo queste varie possibilità oppure c'è la cosa più sintetica ma anche un po' più strana io ti do già un oggetto user di cui ti dico solamente che l'unico campo che ho caricato è l'ID qui non ti passo separatamente un parametro che ti dice qual è l'ID dell'oggetto che voglio cercare ma lo metto dentro un oggetto inizializzato in modo parziale questo trucchetto qua di inizializzazione parziale l'abbiamo già usato vi ricordate? per fare ricerca nelle collection quindi inizializza un oggetto con l'unico dato che so cioè l'ID che mi serve e chiedo al DAO riempimi gli altri campi oppure quindi in tutti questi casi restituisco al massimo un oggetto se c'è lo restituisco se non c'è beh o restituisco null in questo caso oppure restituirò falso in questi altri due casi oppure magari voglio cercare un utente di cui conosco solamente il nome che non è il login ma il nome di battesimo e allora mi darà l'elenco di tutte le persone con quel nome quindi devo prevedere un metodo qui già lo chiamo metodo di search di ricerca che mi restituirà un elenco di utenti e non un solo utente quindi sono metodi di questo genere che noi potremmo volere implementare oppure ci sono tutti i metodi di creazione ti passo un oggetto user e lo crei ti passo un oggetto user leggi i dati di quello vecchio e sostituisci nel database il valore aggiornati quindi l'id rimane uguale ma gli altri campi potrebbero essere cambiati delete non lo voglio sentire potremmo avere metodi di esistenza esiste un utente con questa mail? esiste un utente con questo id? non mi servono sapere i nomi i dati voglio sapere se esiste o no perché c'è un utente nuovo che si sta registrando con una nuova mail allora voglio capire se c'è già o se non c'è ancora questa mail e quindi in questo caso è risultato solamente un booleano però l'idea è che i metodi che offre il DAO devono essere metodi semplici con interfaccia oggetti in ingresso e in uscita quindi evitare il più possibile di avere tanti campi quanti sono le colonne della tabella perché quelle possono cambiare e agnostiche rispetto allo scopo per cui questi metodi vengono chiamati quindi un metodo deve avere senso come operazione di base di manipolazione di quei dati ok quindi nel nostro esempietto semplice semplice come possiamo implementare questo criterio il programma di 10 righe un pochino si complica perché io dovrò poi già avere nel mio programma prova database io mi creo per mia comodità due package diversi così mi obbligo a separare le cose uno lo posso chiamare model poi questo non è ancora un programma java effects quindi è molto meno strutturato e un altro package lo posso chiamare database .db in cui separo quelle che sono gli oggetti dentro il modello vado a mettere gli oggetti di lavoro quindi data transfer object ed eventualmente la classe model e dentro il database vado a mettere la classe DAO e ciò che la supporta quindi immaginiamo che il nostro programma di prova voglia sapere se una parola esiste nel database o no che è quello che stiamo facendo qua per farlo io non faccio la query dal main dal programma main ma avrò una classe dizionario DAO che creo all'interno del package e questa classe gestisce il dizionario e ha un metodo che mi dice se una parola esiste quindi public boolean esiste parola in cui passa una string nome ad esempio quindi il mio programmamento che vuole sapere se il gatto esiste oppure no potrà semplicemente chiamare questo metodo quindi separiamo l'accesso al database dentro la classe DAO offrendo un metodo che dà già questa risposta oppure potrei avere l'elenco di tutte le parole public list chiamiamo il metodo list all ad esempio e mi restituisce una lista di tutte le parole presenti nel database sono 700.000 questa lista è un po' lunga ma va bene oppure un metodo per creare una parola public void oppure boolean crea parola ecco cosa devo passare al metodo crea parola devo passare un oggetto di tipo parola che contenga in questo caso solamente l'id e il nome e anche questa lista che cosa mi restituisce questa lista non mi restituirà delle stringhe ma mi restituirà degli oggetti che contengono un id è una stringa quindi per poter fornire un'interfaccia sensata a questa classe DAO mi devo preparare adesso mi sposto nel package model mi devo preparare degli oggetti di lavoro semplici ad esempio qua un oggetto tipo parola un oggetto che un pochino faccio da specchio rispetto alla struttura delle tabelle del database quindi se io devo leggere o scrivere in database dei dati che sono fatti così id e nome e dovrò avere un oggetto in java dentro cui mettere quelle informazioni o da cui prendere quelle informazioni se le devo scrivere quindi mi costruisco degli oggetti i cui campi siano parallelo rispetto alla struttura del database in prima istanza poi se le cose cambiano in realtà il mapping la corrispondenza tra i campi degli oggetti i campi delle colonne del database possono evolvere possono cambiare possono diventare complessi magari negli oggetti java vedo solamente certe colonne perché altre non mi interessano però primo passo per semplicità creiamo gli uguali e quindi quando parlo di una riga di questa tabella sto parlando di un oggetto di tipo parola che conterrà un intero id e conterrà una stringa nome non c'è una legge che ci obbliga a chiamarli id e nome così come sono chiamati del database però per non complicarci la vita cerchiamo di mantenere la stessa nomenclatura e basta questa classe qua non fa altro il suo scopo è contenere questi dati ovviamente non fa altro ma deve avere tutti i metodi di lavoro quindi serve un costruttore per creare un oggetto parola servono il get resector su tutti gli attributi servirà se sta cosa qua la dobbiamo mettere dentro una collection servirà un escode equals che possono lavorare ad esempio sull'id se c'è un id che è una chiave unica è opportuno che il campo che è utilizzato per misurare l'identità di oggetti nel mondo java cioè il campo che uso per fare le squadre equals e il campo che è usato per misurare l'identità di oggetti nel mondo SQL cioè la chiave primaria della tabella devono essere la stessa cosa altrimenti rischierai di avere oggetti che il database considera uguali e java no o viceversa no? non andiamo a cercare problemi ulteriori quindi l'identità di un oggetto in java e la chiave primaria della tabella che lo rappresenta devono essere coerenti e noi cerchiamo di replicare nella logica di java quella che è la logica del database allora questa tabella aveva come chiave primaria l'id e quindi io dentro il mio equas e il mio hash code uso solamente il campo id voi mi dite sì però sono uguali se anche la stringa del nome è uguale sì lo so però visto che questa cosa qua non è che me la invento ma mi arriva dal database sono sicuro che se l'id è uguale anche il nome è uguale viceversa se l'id è diverso anche il nome è diverso quindi non vive a sé stante questo oggetto quindi allora questo è un oggetto semplicissimo che a questo punto può essere usato java.util.list e questo listall mi restituisce un oggetto model parola e questo mi restituirà un booleano che mi dice se questa parola esiste oppure no quindi in questo caso posso passare solamente il nome una stringa oppure potrei passare già un oggetto parola di cui l'id però non serve o cose del genere crea parola ovviamente gli passa un oggetto parola con la nuova parola da inserire e quindi ciascuno di questi metodi dovrà farsi del male e accedere al database per ottenere l'informazione che serve come come abbiamo visto prima prendo una connessione faccio una query estraggo i risultati quindi creo una connessione driver manager punto get connection con una stringa di connessione che devo conoscere adesso stiamo migrando da questo main e quindi ce l'ho già poi questa connection che è un java.sql punto connection questa cosa qua ovviamente dobbiamo mettere dentro cdbc url dentro metto un blocco tra i catch eccetera eccetera ci metto anche la stringa qua dentro così stanno vicini e poi vado avanti a costruire lo statement quindi string la sql che mi dice se una parola esiste oppure no è quella che abbiamo visto prima select asterisco from parola where nome uguale punto interrogativo la cosa la cosa che ho fatto adesso non fatela mai scrivere una query direttamente in java proviamola sempre prima nel database perché sai magari il nome della colonna è diverso c'è uno spazio di troppo uno spazio di meno ovviamente qua non posso mettere qualche cosa dopo perché il gatto è stufato e vedo se funziona in questo caso funziona però sempre prendiamolo pure come abitudine non scrivo mai dentro eclips le query le provo prima nella mia interfaccia del database quando sono sicuro che funziona la trasporto la copio dentro eclips poi magari l'asterisco non mi piace tanto perché non mi piace tanto l'asterisco perché se poi qualcuno cambia il nome delle colonne o cambia l'ordine delle colonne mentre il database evolve allora conviene sempre dire io voglio queste due colonne più siamo espliciti più ci proteggiamo rispetto a eventuali evoluzioni del database ok quindi questa cosa qua funziona l'ho testata allora adesso la posso trasportare qui dove ovviamente anziché il dato di esempio io ci metterò un dato parametrico e su questo posso eseguire l'interrogazione prepare statement uguale connection punto prepare di queste sequele setto il parametro qui ho un parametro solo che è una stringa quindi sarà un set string del primo parametro col valore quale nome e adesso posso eseguire questa interrogazione result set risultato di questa query execute query eseguo questa query ottengo il risultato e questo risultato come può essere? può essere fatto guardate la query che abbiamo fatto può essere fatto di una riga o zero righe giusto? allora anziché fare il ciclo while che va a leggere tutte le righe che in realtà sono già che ce n'è una sola quello che io farò potrebbe essere semplicemente chiedermi se esiste la prossima riga quindi il result.next che fa avanzare il cursore se la prima riga esiste e se esiste so che è l'unica e so che contiene quella parola lì quindi non mi serve sapere altro oltre al fatto che esista allora restituisce true se invece la prima riga non esiste perché non c'è quella parola il mettono next si porterà dalla riga prima della prima che non esiste alla riga dopo l'ultima che non esiste neanche lei estituendo false e quindi questo if è trovato sì oppure trovato no allora mi verrebbe attenzione che è sbagliato quindi non fatelo di dire se sì dimmi che l'ho trovato altrimenti dimmi che l'ho trovato quindi ho fatto una query per vedere se c'è almeno una riga che contiene questo nome esattamente come lo vuole l'utente o c'è o non c'è se c'è il metodo deve ritornare un booleano true se non c'è ritorna falso perché ho detto che non va bene così? perché non ho chiuso la connessione così questo metodo ogni volta che lo chiamo apre una connessione nuova e non la chiude mai chiamatelo un certo numero di volte e vi si impala il database la connessione non la posso chiudere qua sotto perché ormai il metodo è finito non la posso chiudere qua sopra perché se chiudessi la connessione il result set non è più valido perché non posso usare un risultato di una connessione che non c'è più e quindi dovrò dire vabbè mi salvo il dato boolean result qui non metto già un return ma salvo risultato poi chiudo la connessione poi ritorno risultato è antipatico ma purtroppo l'importanza di chiudere la connessione va oltre all'estetica del nostro codice ci quadra? allora se facciamo questo il nostro main si semplifica radicalmente perché tutta questa cosa qua non serve più e devo semplicemente se voglio sapere se nel database c'è la parola c'è la parola gatto lo chiedo al DAO quindi istanzierò una classe parola DAO no dizionario DAO lo chiamate scusatemi uguale new dizionario DAO non avendo lui uno stato interno anche il costruttore di solito non ha parametri e poi chiederò al DAO ad esempio DAO esiste la parola parola se sì dirò che la parola esiste altrimenti dirò che non esiste quindi a livello del programma chiamante è tutto molto più semplice è tutto pulito non c'è bisogno di vedere le SQL la gestione degli errori le eccezioni eccetera eccetera faccio un run qui ah sì poverino qua ci sono ancora gli errori di compilazione su questo metodo che non abbiamo ancora scritto questo metodo deve restituire uno strutturato di tipo boolean e lo fa ah no perché se esco dal 3 che esce risalte può darsi che se c'è un'eccezione lui non ritorni da qua e quindi ci aggiungo un discorso troppo lungo per oggi è sì ma quando c'è un'eccezione cosa faccio la stampo e vado avanti no ovviamente dovremo poi imparare anche a gestire a decidere come gestire le varie eccezioni quindi la parola gatto esiste mentre noi sappiamo già che la parola gatto con tra t non esiste ok quindi separiamo queste due parti faccio ancora un passettino avanti perché ogni volta che crea un metodo del DAO dovrei fare dovrei ripetere queste due istruzioni dici vabbè però immaginate avere 30 metodi diversi poi io vi do il programma e il vostro database sul vostro computer ha una password diversa e dovete andare a modificare ovunque la stringa di connessione allora questa stringa di connessione questa operazione di connessione conviene centralizzarla cioè creiamo una classe che abbia un unico scopo della vita cioè quello di chiamare get connection il DAO non la chiama mai direttamente questa classe io il primo anno che ho cominciato a fare sto corso ho cominciato a chiamarla db connect e quello è rimasto quindi dentro il package db creo un'altra classe le chiamiamo db connect che abbia solamente un metodo tra l'altro possiamo anche definirlo come metodo statico non ci serve creare oggetti di questa classe semplicemente un metodo che faccia quelle due istruzioni lì public connection che è un java sequele connection get connection static che faccia niente più che quello che faceva prima quindi prendiamo dal DAO queste due istruzioni le togliamo le mettiamo qui dentro mettiamo il suo poveretto di try catch e poi dopo ci preoccuperemo dell'errore se non la trova ritorna nullo e così abbiamo un punto unico che è quella riga 11 della db connect che contiene la stringa di connessione volendo possiamo anche metterla come variabile di classe qua dentro ma non cambia un granché così nel DAO non nel DAO né i DAO perché magari un programma complesso può avere diverse classi DAO e ciascuno di queste può avere diversi metodi quando voglio creare una connessione semplicemente chiamerò la mia classe di servizio db connect punto get connection quindi abbiamo nascosto anche la gestione della connessione all'interno di una classe dedicata questo oggi ci serve per comodità per non dover fare copia e incolla di quella urla e se dobbiamo modificare da un programma all'altro da un computer all'altro non dobbiamo modificarlo in 100 punti ma in uno solo ma tra un mesetto ci tornerà molto utile perché andremo a stravolgere parecchio la classe db connect per poter gestire non una ma più connessioni multipli e contemporanei allora il fatto di averlo messo in una classe separata ci permetterà poi di poterci lavorare separatamente in quella classe e a questo punto tutti i nostri programmi continuano a funzionare meglio di prima senza doversere modificati quindi la struttura dei metodi del DAO per noi sarà questa ho il metodo come prima cosa acquisisce una connessione si ricorda pena la morte con gli atroci sofferenze di chiudere la connessione e in mezzo fa la barra le interrogazioni che gli servono e restituisce al chiamante qualche cosa che abbia un senso in java quindi un booleano un oggetto un null una lista quello che deve fare ok questo è il principio di lavoro abbiamo sempre una classe che ha bisogno dei dati in questo caso era il main di prova ma nel nostro caso sarà più avanti sarà il model la classe DAO che sa come interrogare questi dati ed è l'unica classe a cui diamo il diritto di importare java.sql abbiamo dbconnect che per noi semplicemente è il metodo get connection nascosto messo da parte e poi abbiamo uno o più oggetti in questo caso la classe parola che servono per contenere i dati che vengono letti o scritti nel database servono per contenere un dato singolo oppure per costruire una lista di questi dati quando ad esempio sul metodo list il DAO dovesse restituirne più di una contemporaneamente come qua ok allora ci fermiamo qua dimmi get connection restituisce no restituire la connessione scurami nel caso in cui la connessione riesca ad essere acquisita devo restituirla grazie scurami avevo dimenticato la riga più importante quindi adesso in teoria proviamolo ok funziona senza questa ovviamente mi avrebbe schiaffeggiato con un'estensione particolarmente antipatica ok allora dicevo fermiamo adesso facciamo un po' intervallo e dopo proviamo a fare un esercizio in cui mettiamo in pratica queste cose in un'applicazione un po' più complessa grazie a tutti